Real Madrid contro Sant'Andrea Frius, terzo playoff nella categoria Open del Champions Cup. Si affrontano la futura Sales, seconda del girone 3 contro terza del girone 4. Il Sant'Andrea Frius, dopo aver chiuso Maluccio la prima fase, è stata l'autentica rivelazione nella seconda. Formazione di Giuseppe Cannas che parte bene, al secondo è già in vantaggio con Simone Lallai. La risposta del Real Madrid è assistita da un regalo clamoroso della difesa ospite. Denis Capai, quando scocca il 10 minuto, non può far altro che ringraziare il Real Madrid, ribalta il punteggio al 20esimo minuto di gioco. Lo fa con Matteo Piglio. Buon momento per la squadra di Gianluca Pirrello che ci prova subito dopo, prima con Bindi e poi con Masci. In entrambe le circostanze, ottimo Azzeni. E' proprio Azzeni a cercare il pareggio direttamente su punizione. Sulla sua sassata ci mette una pezza Coruncio. Gabriele Meloni ci prova con una vola meravigliosa dal limite. La palla termina di poco sul fondo. Andiamo alla ripresa che si apre col 2-2 immediato del Sant'Andrea Frius realizzato da Francesco Usai quando siamo esattamente al 29esimo minuto di gioco. Il Real torna ad attaccare e lo fa in maniera violenta. Bindi ci prova dalla destra. Azzeni come al solito ci mette una pezza. Ancora Bindi. Questa volta la palla termina sulla parte esterna della porta. Nel miglior momento del Real colpisce il Sant'Andrea. Siamo al 37esimo. Il gol è quello di Gabriele Meloni. Il Real non ci sta ma il Sant'Andrea ha la palla per chiuderla. Francesco Usai se la divora da centro area. Coruncio da quest'altra parte col destro straordinario. Daniel Azzeni che però è costretto a capitolare al 49esimo. E' l'autore del gol è Giuseppe Coruncio. Nel finale Denis Cappai ci prova sul calcio di punizione. Ancora Daniel Azzeni miracoloso. Si va al calcio di rigore. Il primo a partire Meloni. Gol. Poi Bindi. 1-1. Tocca adesso a Daniel Azzeni. 2-1 per il Sant'Andrea sotto il Nubi Fraggio. Corongiu. 2-2. Adesso Riccardo Taconi numero 8 del Sant'Andrea Frius. Va col destro. Palla sotto l'incrocio dei pali. Tocca ora a Riccardo Serra che sceglie il mancino spiazzando Azzeni. 3-3. Adesso Marco Aru per il Sant'Andrea. Conclusione centrale. Gol. Pirrello. Patron Pirrello. Va col destro. Brivido per lui. E di nuovo parità. Ancora Sant'Andrea. Ancora un gol. Quello di Francesco Usai. Poi Denis Cappai a momenti smonta la porta. La futura Sales. Simone Lorrai col destro. Andrea Cappai gli dice di no. Tocca Matteo Pina il gol. Il Real Madrid è qualificato per i quarti di finale della Champions Cup Open. Affronterà la mina Rendezvous Cafè. Tocca Matteo Pina. Tocca Matteo. Tocca Matteo. Tocca Matteo. Tocca Matteo. Tocca Matteo. Tocca Matteo.